bene, allora siamo con la scena iniziale questa qui, vi ricordo che se volete avere la stessa grandezza di caratteri c'è nelle preferenze e c'è l'interfaccia utente che si può adeguare, quindi andate nelle preferenze UI Scaling, io l'ho messo al 125% questa è un'ottima cosa che consente a noi che abbiamo problemini di vista di poter usare Unity in maniera adeguata e anche per il tutorial, perché così voi potete vedere un pochino meglio allora qui io di solito per fare le scene di prova metto un piano per terra quindi come faccio per introdurre degli elementi la teoria dovrebbe sul più questo si può creare un empty, si possono creare varie cose e si possono creare ad esempio un piano allora quando vedete che abbiamo creato il piano il piano compare qua e le sue dimensioni, la scala, insomma quello che è diventa abbastanza visibile se avete messo il game che io ho spezzato l'avete messo sotto quindi avete praticamente il piano lì se volete muovere la telecamera per vederlo diversamente la telecamera è questa e vedete che qua cliccando sulla telecamera che si può cliccare anche in main camera si viene anche la camera preview lì che però noi abbiamo anche qua sotto un po' più grossa e quindi a questo punto possiamo anche vedete alzare la telecamera avvicinarla al nostro piano se vogliamo quindi la mettiamo praticamente più vicino e altre cosette ora la cosa la primissima cosa che possiamo fare è navigare in questo ambientino che però perché abbia un briciolo di interesse ci mettiamo ancora un cubino quindi mettiamo un cubino quindi 3D Object Cubo questo cubo appare e viene caricato praticamente all'inizio qua ok? magari lo mettiamo un pochino sfasato verso il fondo vedete è un po' lontanuccio e poi il solito discorso che vi facciamo sempre è che ci mettiamo dei materiali sopra ora ok? come vedete mi sono preparato alcune immagini che voglio mettere praticamente nella nostra scena mettiamo qui sotto praticamente un quadro quindi camminiamo sul quadro giusto per qualcosa di interessante e come vedete non funziona questo sistema di piazzarlo lì però le immagini possiamo importarle quindi prendiamo la Mona Lisa e la importiamo qua ah no, dovrebbe prenderla perché se faccio qua la lascio no, non me l'ha presa quindi la Mona Lisa dobbiamo prima metterla negli assets e come vedete adesso mi sta prendendo tranquillamente la Mona Lisa quindi la Mona Lisa una volta che l'ho presa vedete che è qua posso tranquillamente usarla ecco e vedete che l'ho messa come sfondo quindi avendola messa come sfondo adesso camminerò su delay ci deve essere un modo per invertirla ma diciamo che per il momento va bene così poi vedremo in un'altra puntata come eventualmente girarla oppure se proprio ci dà fastidio il fatto che quando entriamo la vediamo storta la possiamo girare con questo che vuol dire rotation lungo la Y di 180 ok così la vediamo praticamente in questo modo quindi la prima cosa che abbiamo messo è la lei adesso vogliamo invece che quando l'idea principale è che quando facciamo click su questo oggetto che è il nostro cubo il nostro desiderio è quello di proiettare un pannello che si veda un pannello praticamente di fronte bene allora qui scusate cancello questo che è un residuo di una prova quindi eravamo arrivati che abbiamo la scena con il piano e il cubo che si vede in questo modo vogliamo mettere un pannello che compare quando premiamo il cubo quindi per fare ciò dobbiamo aggiungere un pannello quindi facciamo aggiungiamo un pannello che sarà panel ecco vedete che nel momento in cui ho aggiunto il pannello mi ha aggiunto anche un canvas canvas è il posto dove lui praticamente mette tutti i pannelli noi faremo un pannello per ogni cosa che vogliamo far vedere e poi i pannelli li accenderemo e li spegneremo quindi questo pannello lo chiameremo ad esempio quadro 1 perché vogliamo che in questo pannello compaia il quadro 1 quindi per fare questo possiamo adesso nei pannelli ci possono stare delle scritte quindi io posso mettere una UI e gli metto un testo ecco questo testo lo metto sopra e nel testo posso scrivere quadro di Leonardo e questa cosa adesso vedrete poi dovremmo riuscire a vederla e poi invece nel quadro aspetta questo qui il testo lo mettiamo quindi sotto il quadro ok ce l'abbiamo e sotto il quadro ci mettiamo ancora l'immagine quindi facciamo una UI e facciamo immagine e questa immagine la mettiamo sempre qua sotto il quadro 1 quindi vedete che adesso il quadro lui ce l'ha messo in fondo perché ce l'ha messo in fondo? perché se andiamo a vedere sul pannello corrispondente in questo momento c'è la posizione che è questa è posizionata praticamente per metterla qua sotto se noi vogliamo metterla in posizione diversa tra l'altro essendoci due di questo tipo il consiglio che si fa è quello di aggiungere un componente che sarebbe il vertical layout group e questo vertical layout group come vedete mette verticalmente i vari elementi quindi in questo caso abbiamo una scritta sopra e il quadro apparirà sotto se vogliamo cambiare la posizione con cui il vertical layout ci fa vedere vedete che qui abbiamo child alignment upper left se volessimo mettere upper center vedete che lo mette verso l'alto al centro upper right lo mette sulla destra e così via quindi middle right lo fa più in basso e poi lo può fare lower right lo allinea praticamente il tutto viene allineato a destra supponiamo che ci vada bene che sia allineato a destra ora a questo punto la cosa che vogliamo è far apparire qua dentro un altro quadro quindi andiamo a prendere per esempio questo quadro qua lo mettiamo negli assets ecco i quadri per essere messo nell'interfaccia utente quindi se li clicchiamo bisogna cambiargli il texture type quindi non più default ma bisogna dirgli che è uno sprite nel momento in cui abbiamo effettivamente fatto questo mestiere allora questo qui è diventato uno sprite quindi lo vedete perché è doppio vedete che ha praticamente anche informazioni legate alle sue dimensioni e soprattutto possiamo infilare questo questo immagine laddove c'è source image della nostra immagine quindi possiamo prendere questa e metterla qua a questo punto vedete che abbiamo il quadro di Leonardo visualizzato con la dicitura quadro di Leonardo e il pannello quindi vedete che praticamente nel momento che abbiamo toccato il pannello che tra l'altro lo vediamo è questo quando non è visualizzato è spento quando è visualizzato vedete che fa vedere queste informazioni tra l'altro lo fa in semitrasparenza ma è già interessante quindi il nostro obiettivo è di far apparire questo quadro solo quando clicchiamo il nostro cubo allora a questo punto come facciamo per avere uno script che ci permette di pilotare lo vediamo nel prossimo video perché così teniamo abbastanza distanti insomma le varie cose